Sembrava essere un fine giornata di intenso lavoro come spesso accade in questo periodo al punto Simpli di via Marino-Froncini a 20 passi da piazza 20 Settembre a Fano. Invece lunedì sera dopo la chiusura qualcosa di inaspettato ha stravolto la serata. Un rapinatore armato e con il volto travisato da un passamontagna ha tentato di impossessarsi di una sacca dove secondo lui era costudito l'incasso dell'intera giornata. Tutto è accaduto in una manciata di secondi attorno alle 21 un addetto del negozio è uscito dalla porta di servizio del supermercato che dà su via Froncini con una sacca e si è trovato di fronte il rapinatore che ha tentato di impossessarsi della borsa ma a quel punto nella mente dell'addetto del Simpli è scattato qualcosa una reazione di stinto fulminea che ha colto di sorpresa il bandito per difendere ciò che in quel momento riteneva vitale. Ha incominciato ad urlare e ha tentato di disarmare il ladro ne è scaturita una colluttazione. La pistola, vera o giocattolo non è dato saperlo, è caduta a terra e le grida hanno attirato anche l'attenzione dei vicini che dalle finestre assistevano a quanto stava cadendo in strada e hanno chiamato il 112. Nel frattempo vista la malparata e la reazione inaspettata del proprietario della borsa il rapinatore raccoglie l'arma da terra e si dà la fuga in direzione della piazza facendo perdere le sue tracce. Per i carabinieri del nucleo investigativo e radiomobile di Fano arrivati sul posto coordinati dal capitano Papale è scattata subito la caccia all'uomo e hanno setacciato la città alla ricerca del ladro con una descrizione sommaria del suo aspetto data dai testimoni ma di lui nessuna traccia. Ora le indagini dei militari dell'arma sono orientate verso ogni ambiente nel quale può gravitare questo rapinatore solitario e anche un po' maldestro per risalire alla sua identità anche attraverso le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza sparse nella zona del centro.